pronti e azione la battuta qual è la battuta non l'ho picchiata non è vero sono stronzate non l'ho picchiata non l'ho fatto oh ciao mark azione qual è la battuta tredicesima azione non l'ho picchiata io ok ok battuta non l'ho picchiata non è vero sono stronzate non l'ho picchiata non l'ho fatto 67 azione l'ho picchiata no vuoi cambiare la battuta vai alla grande ce la faremo azione 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 parla più forte io non sento qui dentro di azione in modo che sento va bene azione non l'ho picchiata non è vero sono stronzate non l'ho picchiata non l'ho fatta oh ciao mark è vero 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 è